Non c'è un solo modo per prendersi cura delle persone. Con VriHealth la salute è ovunque, sempre e per tutti. Telemonitoraggio, televisita, teleconsulto. Le soluzioni digitali di VriHealth sono ready to use, certificate come dispositivi medici e facilmente accessibili. Per una migliore qualità della vita del paziente e per un'innovazione sostenibile in medicina. La qualità della cura incontra una gestione della spesa sanitaria più efficace ed efficiente. Un aiuto quotidiano e un supporto concreto infermieri, medici e direttori sanitari. È la Digital Health di VriHealth. Perché la vita ha bisogno di più vita. Grazie. 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 Grazie.